Ciao ragazzi, sono tornato con un nuovo video, oggi per recensirvi un libro che non credevo di leggere, in realtà uno di miei migliori amici che si chiama Damiano Ma sono a casa di questo tizio che si chiama Damiano Cecchietta, lo vedete? Che ha anche un canale che si chiama Onsen91, vi lascio un'info box e il link per andare a dare un'occhiata ed eventualmente iscrivervi al suo canale Mi ha consigliato con estremo piacere questo libro, La Traversa Specchi Libro primo, fidanzati dell'inverno, Cristel Dabbo, edizioni EO, 16 euro, 500 pagine di libro Sta uscendo in Italia il quarto volume e io sto considerando seriamente l'idea di comprarmi anche il secondo e leggerlo perché ho promosso a pieni voti questa storia Considerate che non sono un lettore accanito di fantasy, la mia ragazza ha comprato il priorato dell'albero delle arance Una copertina straordinaria, tutta arancione, mi ricorda i piccoli brividi che però in realtà erano verdi Ho un bel mattone, mille pagine, 26 euro di libro e mi incuriosisce Quindi visto mai che magari sono ufficialmente iniziato a questo genere che per tanto tempo non ho approfondito Ma passiamo alla storia Ophelia, un nome di merda, lo so, però è il nome della protagonista che apre le danze di questa storia molto particolare Particolare è anche il suo potere perché toccando gli oggetti può scoprirne la storia, chi è appartenuto e tutta una serie di cose Non solo, giustamente l'attraversa specchi, chi è che attraversa gli specchi? Lei, Ophelia, per forza, con un nome del genere che volevi fare, volevi andare a principessa No, Massimo che ti è toccato è attraversare gli specchi Che significa attraversare gli specchi? Quello che ho detto, cioè una prende lo specchio, ci va attraverso praticamente E sbuca dall'altra parte dove c'è lo specchio collegato, o comunque lo specchio in cui lei vuole andare Un po' tipo il binario tre quarti, nove e tre quarti di Harry Potter Che insomma loro col carrelletto entrarono nel binario Comunque non c'entra un cazzo questo con Ophelia Ophelia è costretta a sposarsi un uomo che non conosce Tra un po' te sposi, dici come me sposi? Eh sì, te sposi, con chi? Boh, non lo sai Io tra un po' lo scoprirai Bene, questo è un po' l'anima di tutto quanto il libro Non che si organizzano matrimoni a cazzo di cani Però il lettore scopre a mano a mano, pagina dopo pagina Tutta una serie di aspetti Quindi scopre i poteri di alcuni personaggi Scopre il nuovo mondo in cui sta andando Ophelia Scopre assieme a sta benedetta Ophelia Chi è il marito? Quindi se è un uomo buono, risoluto, concreto Oppure se è un uomo in realtà, non so, violento, cattivo Ebbene, Thorne, che è il nome di questo personaggio Appunto che sarà in sposo ad Ophelia È un personaggio molto particolare Non è che se ne è presa una così Purtroppo gli è capitato un tizio abbastanza difficile Proprio perché è difficile il mondo in cui abita E il mondo in cui sta per entrare Ophelia Ophelia entra in questo mondo E qui ne succedono di cotte e di crude Ci sono personaggi violenti che non la possono vedere Personaggi che la vorrebbero morta Personaggi che la vorrebbero difendere Ma hanno un brutto carattere Lei è molto timida, insomma, è molto genuina Anche molto goffa Sbatte da tutte le parti in scena A volte che si muove non fa cascare qualcosa Non fa succedere un danno Quindi pure questo è un altro aspetto Che complica un pochino le cose Però tutto raccontato da Christelle Che si fa proprio problemi Scrive, è molto semplice I capitoli sono brevi Quindi se siete come me Che avete proprio la fissa Di finire la lettura Precisamente dove finisce il capitolo Questo è perfetto Perché ci sono tanti capitoli Quindi poche pagine da leggere Appunto per ogni capitolo E se avete questa fissa Siete belli che accontentati Poi in realtà è un bel mattoncino Insomma, 500 pagine Non sono proprio poche La scrittura è questa Che vi aspettate I geoglifici No, è in italiano E è molto molto bella È una storia che mi è piaciuta La promuovo a pieni voti Perché inizialmente Tu inizia a leggere un libro E trovi il nome Ophelia Nel senso Ophelia io chiudere il libro E non lo leggo più Perché chi cazzo ci si chiama Ophelia? Nessuno Cioè è proprio brutto come no In realtà poi dopo Un po' di paggio Dico vabbè Superiamo il pregiudizio del nome In realtà poi la storia è molto Proprio simpatico È divertente Nonostante alcuni mezzi Siano abbastanza crudi Però è divertente È scorrevole Non ci sono grandi paroloni E ha uno stile Ripeto Che ha la caratteristica Buona, positiva Ottima Oserei addirittura dire Che fa scoprire le cose Al lettore piano piano A me sta cosa è piaciuta tantissimo Perché spesso nei libri Ci sono delle premesse Sull'ambiente Sulla società Cioè piano piano Fammeli scoprire Assieme personaggi Ebbene questo libro Ha precisamente Rispettato Questa qualità letteraria Quindi che dirvi Io ringrazio il mio amico 1191 Barra Damiano Insomma chiamiamolo Come ci pare Per avermi consigliato Questo libro Io ve lo consiglio A mia volta E come dicevo prima Insomma Sono molto intenzionato A comprare anche Il secondo volume Ci penso un attimo E poi vi farò sapere Eventualmente Lo recensirò qui Fatemi sapere Che cosa ne pensate Se l'avete comprato Se l'avete letto Odiato Amato Fatemi sapere Ci facciamo una Checcarda qua Nei commenti Come sempre Rispondo a tutti Tranne i maleducati Ovviamente Come succede A volte che mi commentate Ma io non rispondo Perché siamo qui Per goderci dei libri Non per litigare Io vi voglio bene Ci vedo alla prossima recensione O al prossimo video Ciao Ciao